Da Fiorenzuola a Castellarquato fino a San Michele, la Val d'Arda è stata presa di mira dai ladri che negli ultimi giorni hanno visitato varie abitazioni. Nella zona alta della valle i colpi andati a segno. Mentre i proprietari di casa erano usciti, i ladri ne hanno approfittato per svaliggiare due abitazioni. È successo sabato scorso in località Malvisi di San Michele, frazioni di Morfasso. I malviventi, indisturbati tra le otto di sera e mezzanotte, sono riusciti a portare via generi alimentari da un'abitazione e dall'altra oro e contanti. Domenica verso le 22.30 i soliti ignoti hanno agito sulle colline verso Bacedasco Alto, in località Pietra, dove hanno tentato di entrare in una abitazione mentre i proprietari erano in casa. Abbiamo trovato la finestra della camera da letto aperta con la zanzariera sollevata, hanno spiegato i residenti. Altri due tentativi di furto si sono verificati nelle abitazioni vicine, dove i cani hanno allarmato i cittadini e fatto fuggire i ladri. Presa di mira anche la località Manfiora, una zona densamente abitata, dove pare vi siano stati alcuni tentativi di furto nel fine settimana. Nei giorni scorsi i malviventi sono entrati anche in una villa a Monterosso di Castellarquato, mentre i proprietari erano in casa e la stessa cosa sembra essere avvenuta anche a San Lorenzo. Un paio di tentati colpi anche a Fiorenzuola, nel quartiere Molinetto, mentre in una casa situata nei pressi dell'hotel Arda, una donna durante la notte è stata svegliata da rumori e si è trovato uno sconosciuto in casa. Per fortuna poi il ladro è fuggito.